Lo slittamento di circa 20 giorni da 21 a 42 della somministrazione della seconda dose di vaccini a RNA messaggero per intenderci Pfizer, BioNTech e Moderna consentirebbe di liberare immediatamente un gran numero di dosi di vaccini disponibili per immunizzare come prima dose nuove fasce di popolazione e permettere al sicuro gli over 60 che in questo momento sembrerebbero essere le categorie a maggior rischio in caso di contagio da Covid. Si tratta di un'indicazione che è arrivata direttamente dal Ministero della Salute che è stata confermata anche dal generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza sanitaria e che è stata poi trasferita alle ASL territoriali che ora dovranno capire come andare avanti con la campagna vaccinale. Con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo venuti proprio presso la direzione generale della ASL di Pescara per chiedere al dottor Rossano Di Luzio responsabile della funzione territoriale della ASL di Pescara e coordinatore della campagna vaccinale della ASL di Pescara e provincia per cercare di capire come ci si sta muovendo in questo caso dopo le disposizioni appunto giunte dal Ministero. Noi ci siamo adeguati alle indicazioni del Ministero per cui stiamo procedendo dando il richiamo a 35 giorni sia per il vaccino Pfizer che sia per il vaccino Moderna mentre gli altri due vaccini cioè l'Astra e il Johnson rimangono fisse come date di richiamo, anzi il Johnson è una monodose per cui non ha bisogno di richiamo. Queste indicazioni ministeriali sono legate in qualche modo al fatto che continuano ad esserci carenze di vaccini? Cioè la fornitura dei vaccini continua ad essere a singhiozzo come abbiamo visto qualche mese fa o comunque si va avanti speditamente? No, adesso la fornitura è abbastanza stabile, certo qualche volta viene ritardata di un giorno al massimo però è abbastanza stabile e anche le quantità che arrivano sono stabili. Questo prolungamento del richiamo è dovuto essenzialmente permettere che un maggior numero di persone possa fare la prima dose. Ci sono stati in alcune regioni italiane dei cittadini che hanno fatto ricorso al TAR per questo slittamento della seconda dose, l'efficacia del vaccino resta anche con questo slittamento? Assolutamente perché già da prima i consigli che le ditte fornitrici davano era la possibilità di fare questo vaccino tra la 21esima e la 42esimo giorno per il Pfizer e tra il 28esimo e il 42esimo giorno per Moderna. Noi ci siamo attestati al 35esimo giorno quindi stiamo nel pieno rispetto delle indicazioni e anche delle ditte che forniscono il vaccino. La campagna vaccinale come va avanti Pescara e Provincia? Quali sono i numeri in vostro possesso? Allora la campagna sta andando abbastanza bene, certo potremmo fare ancora di meglio e ci stiamo muovendo per cercare di fare di meglio. Ad oggi abbiamo somministrato 145.000 dosi con 97.000 prime dosi e di ben 48.000 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. A punto di vista numerico possiamo dire che abbiamo vaccinato nella provincia di Pescara per quanto riguarda i maggiorenni cioè da 18 anni in sopra una persona su tre, abbiamo abbondantemente superato una persona su tre dei vaccinati come prima dose e una persona su cinque come ciclo vaccinale completo. Si parlava del fatto che i 16 anni potranno essere immunizzati con una prima dose già entro l'estate per arrivare ad una riapertura delle scuole in totale sicurezza. Sarà così? Queste indicazioni noi ancora non le abbiamo ricevute. Posso dire che l'unico vaccino attualmente che permette la vaccinazione dei 16 anni e dei 17 anni è il vaccino Pfizer. Stiamo andando per ordine di età, il 20 maggio quindi dopo domani partiremo con i 50 anni, l'8 giugno saremo a vaccinare i 40 anni, penso che arriverà anche l'ora dei 16 anni.